Matteo Renzi ha fatto il pieno, anzi l'auditorium del centro affari era stracolmo e i renziani riempivano anche i corridoi perimetrali. Erano persino in attesa all'aperto sotto la pioggia, almeno per vederlo quando poi sarebbe uscito. Bisogna oggettivamente riconoscere che il successo di pubblico Renzi lo ha raccolto senza limiti e durante il suo discorso gli applausi sono scrosciati ripetutamente. Nella moltitudine di pubblico in prima fila, ma anche dietro, sono stati notati amministratori e politici locali pro o contro il sindaco fiorentino, che è innegabile, sta attraversando un momento di grande consenso. Matteo Renzi ha parlato per più di un'ora, passando in rassegna tutti i grandi temi politici attuali. Quando ha concluso l'abbraccio della folla gli ha fatto impiegare almeno 20 minuti per raggiungere il vicino angolo riservato alla stampa ed anche qui i suoi sostenitori hanno continuato ad asseviarlo. Due battute rapide, tra tanto fragoroso entusiasmo, siamo riusciti a scambiarle. Matteo, ma chi lo ferma più questo Matteo Renzi? No, non si tratta di fermare me, si tratta di non fermare questi ragazzi, non si fermano. A qualcuno verrà l'orticaria se vede tutto questo entusiasmo. Male, male, si prende l'orticaria dall'altruo entusiasmo. E' verga che privata.